OILÀ, LOMBAX! Vedo che hai impostato la rotta per Kerchus City! Non starai per caso cercando un certo segreto? Questo tizio inizia davvero a infastidirmi. Wow, Clank, guarda quel buco nero. Credo che abbiamo trovato una via di fuga. Oh cielo, perché dobbiamo sempre scegliere tra morte certa e morte probabile? Un'azione di lotta per arrivarsi alla trazione del buco nero. Direzione spinta a Quasar! Oh Legend, ho trovato il punto d'origine della flotta. Una lontana luna gelata. Slegg starà preparando un avamposto laggiù. Aspetta, voglio lasciare a questa gente un regalino d'avvio. Capo, sta facendo rotta sull'avamposto Pegasus! Niente di personale, ma noi pirati non abbiamo l'abitudine di spartire il bottino. Questo è un segreto che terremo sicuramente per noi. Ha quasi superato le miniere. Attivate le torrette satellitari, feccia! Miserabile. Ci distruggerò a un posto! Aspetta Clank, potrebbe essere difficile. Clank, salta su quella torretta. Sì, ne valeva proprio la pena. Forza Clank! Andiamocene da qui. Aspetta Clank! 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 Si hanno distrutto un posto e il pub non era nemmeno terminato. Il pubblico e il pubblico e il pubblico. 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 Il pubblico e il pubblico.